Buongiorno, sono Renata, insegnante del metodo Feldenkrais e ho ideato anche questo metodo Tantra Feldenkrais per mettere insieme un po' di lavoro che ho fatto in una scuola di Tantra insieme con il Feldenkrais, con i grandi metti che ho in questo hotel, faccio comunque il riassunto della lezione in Zoom giusto per gli studenti che hanno fatto la lezione intera, quindi non sto ancora a raccontarvi delle ghiandole collegate ai chakra, ma facciamo semplicemente un riassunto dei gesti, quindi partiamo questa volta dal primo chakra, quindi vi mettete distesi, fate il solito ascolto, con le ginocchia piegate, i piedi in appoggio, vi ricordo che le mani si mettono intrecciate così oppure anche nell'altro modo, magari cambiatelo ogni tanto, ok? Quindi sia i pollici sia le mani cambiano e le mettete, intrecciate per ora come volete voi sotto l'osso sacro e naturalmente siccome è Tantra Feldenkrais facciamo un po' di 6-12 e sentiamo com'è farlo con le mani messe così sotto l'osso sacro, naturalmente potete spostarle in vari punti per sentire le differenze, insomma cosa provate, ok? Magari più su, più giù, fate tutte le vostre prove, ok? Poi alzate il bacino, anche pochi centimetri è sufficiente solo per tirar fuori le mani e cambiare l'incrocio delle mani, ok? Quindi voi lo cambiate sotto e fate la stessa cosa, quindi il 6-12, movimento di inarcare la schiena per far passare il topolino e poi di arrotondare la schiena e schiacciare il topolino, chi non ha mai fatto questa cosa basta andare a vedere le playlist su 6-12, movimenti pelvici, orologio pelvico, ok? Bene, e quindi stiamo portando energia a questo primo chakra, vabbè dai le ghiandole di riferimento sono le surrenali, che producono il cortisolo, servono per diminuire il dolore, ma per tantissime nella lezione lunga andate a vedere tutto quello che fanno, ok? Bene, questo primo chakra, questa ruota di energia, definito anche un po' il chakra della base, perché diciamo che da qui c'è legato il concetto di sopravvivenza, il concetto di attacco e fuga, quindi la capacità di rilassarsi ma anche di far, di reagire a una situazione, ok? Quindi avete fatto anche un bel po' di 6-12. Poi passiamo al secondo chakra, detto anche della sessualità, dell'emozionalità, dell'emotività, insomma, e naturalmente qua trattiamo le gonadi, quindi i testicoli per l'uomo e le ovaie per la donna, ma in realtà trattiamo anche tutto l'apparato dell'intestino, il collo, ok? Quindi mettete semplicemente una mano a pugno, quella che volete voi, l'altra la portate sopra come se fosse la mano che guida il mouse, no? E la mano sotto è il mouse e iniziate a fare dei cerchi piccoli, premete, fate tutto il perimetro sotto le ultime costole qua, come se volesse fare quasi un giro intorno all'ombelico, quindi fate questi giretti intorno all'ombelico. Cercate di tenere rilassate le spalle, la mandibola e fare questo bel massaggio al vostro intestino. Sentite se ci sono dei punti dove sentite dolore o comunque che sono più duri, andate con più gentilezza, ok? Qualcuno dice che sarebbe importante fare sempre in senso anti-orario perché così è la direzione del colon per chi soffre di stitichezza, però insomma vedete voi se lo fate spesso magari vi accorgete che vi piace anche andare nell'altra direzione, io non saprei dirvi, ma me l'hanno fatto fare giustamente e quindi penso che sia valido entrambe le cose, insomma soprattutto cercate di rilassare le spalle e la mandibola, di godervela, di farli piccoli, di andare piano piano profondamente, anche potete farlo anche al centro dell'ombelico, potete fare anche come invece che cerchi andare un po' in giù e in su, potete fare diagonali, un po' giocherellate con la vostra pancia e sentite andate proprio quasi fino alla margine dell'osso pubico e cercate proprio di godervela, io adesso la faccio breve e nella lezione lunga facciamo di più. Per quel che riguarda invece il terzo chakra, sapete che lavoriamo sul pancreas, sullo stomaco, relativo dicono al potere, alla capacità di fare, quindi qua vedete qua c'è lo sterno, finisce l'osso che collega tutte le costole, poi ci sono queste 3-4 costole spurie che si attaccano direttamente all'ultimo, allo sterno e quindi fanno questa specie di triangolo, ecco potete qua andare con le dita di una mano anche con l'altra oppure aiutarvi con l'altra mano a come a massaggiare la parte interna, diciamo il diaframma, quindi capite che è molto importante avere morbido il diaframma perché così si respira meglio, qualcuno se ha fatto pancafit si ricorda che si fa molto questa cosa qua, se qualcuno va meglio da seduto può farlo anche da seduto e andate proprio a portare dentro con le dita, naturalmente ognuno sa quello che può fare, si sa se magari forse se lo faccio vedere da seduta si vede meglio, quindi così andare dentro proprio con le dita e potete farlo aiutandovi con una mano oppure semplicemente da tutte e due le parti, magari se vi sporgete un pochino in avanti così potete sentirlo ancora di più e naturalmente siete molti delicati qua con la bocca dello sterno, magari vi accorgerete che una parte è più contratta, una parte meno, magari allora dedicate un po' di più attenzione a questa parte qua, ok? Per quel che riguarda anche la pancia se siete seduti potete farlo anche quello prima del secondo chakra, ok? quindi dopo avete fatto il terzo chakra, adesso andiamo al chakra di mezzo, quello che divide i tre chakra diciamo un po' più materiali ai tre chakra superiori, quindi il chakra del cuore, sul chakra del cuore io direi che potete stare sia seduti che distesi, incrociare sempre le dita e mantenere proprio semplicemente lì le mani e se volete naturalmente sapete chi fa le lezioni lunghe, che ci sono i colori da immaginare, nel caso del cuore è il verde, ci sono i mantra, qualsiasi cosa vogliate, vale anche per gli altri chakra, potete naturalmente cantare i mantra, nam ne o ring yo, potete om mani padme om, tutto quello che poi facciamo nelle lezioni lunghe, vedete voi, però insomma potete anche semplicemente tenere le mani sul cuore, questo è un riassunto e quindi non facciamo tutto nei dettagli, è molto lento, tra i capelli, non è che lavati in piscina, ok? Quindi le mani sul cuore, ok? Poi invece per il quarto, per il quinto chakra, quello della gola, della comunicazione, mettete le mani semplicemente a coppetta, però invece di fare come abbiamo fatto ad esempio nell'altra lezione con le mani così una al lato del collo, vi incrociate le mani e quindi create questa forma di abbraccio, no? E quando siete in questo abbraccio qua potete fare quello che volete, potete accarezzarvi un pochino e sentire com'è stare abbracciati con voi stessi, quindi dare a questa comunicazione con voi stessi, sapete che stiamo trattando la tiroide, il paratiroidi, insomma stiamo comunque in una zona molto delicata, dell'esofago, la faringe, la faringe, insomma i polmoni perché comunque abbiamo le braccia e quindi diamo energia a questa parte. Siccome però è un po' felling, possiamo anche continuare questo accarezzamento, ok? E cambiare l'incrocio delle mani e sentire com'è, abbracciarci in un modo che magari non ci è venuto subito spontaneo, no? Il nostro automatismo ci porta a mettere sempre un braccio sopra rispetto all'altro e sentire cosa cambia con le braccia così, sempre accarezzandovi, dando energia e piacere a questo chakra della gola, ok? Perfetto. Per il sesto chakra, sapete, detto anche del terzo occhio, trattiamo l'ipifesi e anche l'ipocampo, cioè siamo in una situazione un po' così, quasi di, qualcuno dice, no? Del sesto senso, della sensazione del percepire oltre agli occhi, quindi stiamo trattando tra l'altro quello che qualcuno chiama, questa epifesi, il nostro guru interiore, no? Perché in fondo governa anche tutte le altre ghiandole, aiuta in un sacco di situazioni del nostro lavoro interno del corpo e della mente. E quindi mettiamo le mani incrociate così e quindi teniamo i due pollici così in modo che uno dei due sia sopra e lo mettiamo al centro qui proprio dove c'è questo chakra, in realtà è una ruota ma noi andiamo a portare energia. E facciamo dei cerchi, decidete voi, orario, anti-orario, non è un problema e potete naturalmente farlo anche da distesi che è bellissimo, o più rilassante, forse per le spalle. Chi vuole può fare dei cerchi anche attorno agli occhi, attorno alla bocca, attorno al viso, cioè godetevi proprio questa sensazione di portare comunque energia. Anche piccoli cerchietti sulla fronte, però in linea di massima state comunque abbastanza tempo a fare questi cerchietti sul terzo occhio, sul sesto chakra. Ok? Quindi state pure distesi, godetela. Naturalmente se volete cambiate tutto l'incrocio delle dita in modo che potete sentire la differenza, che sensazioni vi dà farlo anche con l'altro pollice, che è sempre molto interessante sentire un incrocio così proprio non abituale. Ok? Bene. E per quel che riguarda invece il settimo chakra, direi che ci arriviamo attraverso un movimento che comprenda un po' tutti gli altri sei chakra. Quindi partiamo con le mani non più incrociate, ma come a preghiera, però con i due pollici piegati, poi naturalmente potete cambiare, con la punta verso la terra e salite piano, quindi state partendo primo chakra, secondo chakra, terzo chakra, nel cuore ruotate, state un attimo così sul cuore, sul quarto chakra, poi salite e fate il quinto, sentite proprio che le mani passano attraverso i chakra, il sesto, e quando arrivate al settimo semplicemente appoggiate le mani, chi vuole può rimanere anche a distanza, tanto l'energia c'è lo stesso, e rimanete un attimo così. Naturalmente chi vuole può recitare l'OM, può immaginare il colore per qualcuno biola, per qualcuno bianco e rimanere un pochino che tra l'altro cercando di aprire bene le scapole e di rilassare le spalle, e poi piano piano riscendete e passate per il sesto chakra, il quinto chakra, rimanete sempre un attimo sul cuore e sul cuore cambiate la direzione delle mani, terzo chakra, secondo chakra, primo chakra, magari qua se volete cambiate le dita e risalite, primo chakra, secondo chakra, terzo chakra, rigirate, rimanete un attimo sul cuore e naturalmente nella lezione lunga ripetiamo i mantra, facciamo i colori, ma qui insomma facciamo un po' veloce perché è un riassunto, e poi quinto chakra, sesto chakra e sul settimo chakra rimaniamo o lontani o vicini, ma cercando di rilassare bene le spalle, di respirare e recitiamo, va bene? Ok, finito, è un riassunto breve, condizioni un po' così, sono tutta all'ombra perché il sole comunque non riuscivo a guardare il video e spero vi sia piaciuto e che vi piacciono comunque le lezioni che facciamo in Zoom. Un abbraccio a tutti, ciao!